Passaggio di consegne oggi a Palazzo Margherita tra le dame della bolla, della croce e i giovin signori dell'edizione precedente di quella attuale della perdonanza celestiniana, la numero 730. Viola Graziosi, Carlo Palermo e Valentina Golizia lasciano gli abiti a Michela Carnicelli, nuova dama della bolla, Manuel De Libero, il giovin signore e a Francesca Alfonsetti, nuova dama della croce. Il passaggio di consegne con lo scambio anche dei simboli che andranno in corteo il 28 agosto torna dopo 16 anni a Palazzo Margherita. Negli ultimi anni la cerimonia era avvenuta all'auditorium del castello. Il sindaco Pierluigi Biondi ha ricordato che la selezione per i figuranti non è più estetica ormai da qualche anno ma un valore più alto e profondo e ben augurante. L'anno scorso ci si è incentrati nella scelta sul tema della cultura che poi ha dato esidi positivi visto il riscontro e la proclamazione dell'Aquila capitale della cultura italiana del 2026. Quest'anno il tema scelto è stato invece quello del dono che si avvicina al perdono. Sono tutti ragazzi impegnati nel sociale in modo diverso. La dama della bolla Michela Carnicelli grazie all'associazione Vides Pes ha realizzato il suo sogno di condivisione solidale. Manuel De Libero, il giovin signore, ha fatto dello scautismo il suo sentiero di crescita e impegno verso i giovani. Francesca Alfonsetti, dama della croce, nella croce rossa italiana ha trovato la cifra del suo impegno nel sociale. Saranno loro insomma i personaggi più importanti nel corteo storico della bolla del 28 agosto, momento alto della perdonanza perché precede poi l'apertura della Porta Santa.